Come se nulla fosse, parcheggiavano la propria macchina in Contrada Capice e Piazzale di Vittorio, aprivano tranquillamente il cofano posteriore della propria autovettura e gettavano rifiuti. Un inno alla nonne civiltà e al nonne rispetto del posto in cui si vive. Un modo per sporcare la città, creare micro discariche abusive in barba a chi reclama la pulizia e l'ordine nelle piazze e nei quartieri. Per loro sfortuna però le telecamere piazzate dei vigili urbani adraniti hanno ripreso tutto e adesso dovranno pagare le multe che gli sono state inflitte dal corpo di polizia municipale. Una trentina in tutto le persone beccate a gettare spazzatura, dove la spazzatura non va assolutamente gettata. Ci si lamenta spesso che la città è piena di rifiuti, riceviamo tante tantissime segnalazioni di molti cittadini, ma non si capisce e non è difficile poi da comprendere che sono gli stessi cittadini a sporcarla. Il nostro augurio è di non assistere più a gesti simili e non solo per le sanzioni. Insomma sbagliare è umano, per carità, ma per severare sarebbe davvero imperdonabile.